Il reality show Per l'appuntamento di stasera, ci sono Alessandro Cecchi Baone, Stefano Sala e Andrea Mainardi. Per coloro che non avessero l'opportunità di vedere la diretta, ricordiamo che è disponibile la replica della decima puntata direttamente sui canali Mediaset, anche in streaming online. Video virgola punto replica del GF VIP in streaming reality show sui canali Mediaset come detto, la replica della decima puntata del grande fratello VIP3 potrà essere seguita in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Play. Grazie a questo servizio, infatti, sarà possibile rivedere il GF VIP3 in tutte le sue sfaccettature, dunque sia le puntate in live che i daytime, disponibili così anche in mobilità per coloro che non hanno l'opportunità di sedersi e guardare il reality in televisione. Mediaset Play consente infatti di guardare il meglio del reality anche da tablet e smartphone, attraverso l'apposita applicazione scaricabile gratuitamente su qualsiasi tipo di device di ultima generazione. In alternativa, basta collegarsi sul sito anche senza scaricare l'app, video. Species lo spazio d'archiviazione del proprio device car se già appunto precisiamo, inoltre, che la replica potrà essere vista anche martedì 13 novembre sulla 5 e l'appuntamento è alle 21,15 punto anticipazioni decima puntata GF VIP3. Stando invece a quelle che sono le anticipazioni della decima puntata del Grande Fratello VIP, questa sera tornerà ad attualità l'aliasun tra Giulia e Francesco, che da inizio programma hanno fatto parlare di loro perpia di un rapporto che in realtà non è mai riuscito a decollare.Spazio, inoltre, anche a Benedetta e Stefano, che pare sarebbero andati oltre il semplice rapporto d'amicizia.Nelle ultime ore sta, infatti, circolando un video nel quale i due sono ripresi sotto le coperte, forse mentre si stavano baciando. Probabilmente questa sera la dinamica dei fatti verrà chiarita, chiedendo ai diretti interessati cosa sia successo sotto le coperte. Possibile spazio anche alle vicende che riguardano Alessandro Cecchi Paone e Ivan Cattaneo, non proprio in sintonia nelle ultime giornate.Questa sera, come prima anticipato, verrà inoltre decretato l'eliminato della decima puntata. A rischiare sono Stefano Sala, Alessandro Cecchi Paone e Andrea Mainardi. Alessandro Cecchi Paone e Andrea Mainardi.